l'ultimo caffè adoro e fumo che stanno dentro dell'aria mi fanno pensare l'ultimo caffè che pigliate con mamma ma come ti senti? che stai pensando? e che vu che pensi? non ho niente a pensare mi accorgo e penso a tante cose penso che mi stai pensando un po' che mi dispiace vuole essere ancora un po' a qualcuno il corpo mi sta lasciando e visto la buonanima di mamma e pata mi sono venuta a prendere sono stancata e è arrivata l'ora che me ne ha ieri figliami, lo sai perché ti dico? tengo un desiderio di caffè, c'è me beva? ma tenessi aiuto che adoro del caffè ora ti rivedo a sette in coppa a poltrona con sguardo persa dentro di pensare però il sorriso e voglia che tu tenevi da viva mi saranno compagni per tutta la vita ciao a tutti, buona giornata ciao